Appuntamento questa notte con la famosa Superluna, dovuta non solo al passaggio del plenilunio proprio con la concomitanza del Perigeo, ma anche per il fatto stesso che il Perigeo risulta in queste occasioni più vicino alla Terra. Ma andiamo subito a vedere dove sarà più facile ammirarla in base alle ultime aggiornamenti previsionali e le zone più favorite saranno l'Arco Alpino, il Nordeste, la Liguria, la Toscana e il Medio Alto Lazio, dove i cieli dovrebbero presentarsi sereni o più parzialmente nuvolosi. Una via di mezzo invece sulla pianura padana centro-occidentale, l'ovest della Sardegna e anche la Sicilia occidentale, dove potremo avere ancora un po' di variabilità con cieli a tratti nuvolosi. Decisamente invece penalizzate il Medio Basso versante Adriatico, il Sud e buona parte della Sicilia, dove potremo avere anche qualche pioggia al più timide e parziali aperture. Ma per tutti gli aggiornamenti previsionali vi ricordo anche di scaricare la nuova app di trabimento gratuita per tablet e smartphone.